Bene, siamo con Andrea Farinetti per la visita virtuale, ahimè, e non di persona, per l'azienda che si chiama Casa di Emanuele Mirafiore. Siamo a Serralunga ad Alba, è un'azienda a tutti gli effetti ormai, poi ce lo racconterà Andrea Farinetti. Non è più solo, diciamo, un marchio legato a Fontana Fredda, ma a tutti gli effetti sta nascendo già da qualche anno, e infatti anche per questo noi dedichiamo una scheda a parte alla cantina, un'azienda indipendente da Fontana Fredda per quanto riguarda la minificazione e naturalmente anche tutta la parte legata alle vigne, che poi sono fondamentali in questo caso. Ecco, io chiederei ad Andrea di ripercorrere la strada di questo marchio, che ha un nome curioso, porta il nome naturalmente del suo fondatore, che è legato comunque mani e piedi alla storia di Casa Savoia. Quindi a te la parola Andrea. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Mirafiore è stata una storia, più che una storia ha un parto, perché ha avuto delle vicissitudini pazzesche in questi ultimi cento anni. E' un'azienda che nasce nel 1878, voluta da Emanuele Alberto, conte di Mirafiore, che era il figlio, chiamiamolo, legittimo di Vittorio Emanuele II, avuto con la bella Rosina. Non poteva essere un re, non poteva essere un principe, e quindi gli è stato dato il titolo da conte, perché c'è una storia bellissima di Vittorio Emanuele, che si trova in Murazzi a Torino, una sera, con Cavour, chissà che cosa facevano, meglio non scoprirlo, e gli racconta che tra un po' da lì a breve gli sarebbe nato un figlio, e non sapevano come chiamarlo, che titolo nobiliare d'altro. A un certo punto Cavour tira fuori una mappa di Torino e dice, ma sì, Mirafiori, chiamalo come quartiere di Torino. E allora da lì nasce conte di Mirafiori e poi per non farlo troppo uguale gli hanno cambiato l'ultima vocale ed è diventato Mirafiore. Emanuele Alberto, in ogni caso, per me è stato un genio e diciamo che ci ha ispirato tantissimo in quello che poi volevamo fare da grandi, e volevamo fare in questa azienda perché è stato, io lo definisco, un vero socialista. Ha fatto più politica lui, facendo produzione di vino che probabilmente suo padre, nel senso che è stato veramente un uomo incredibile. Fonda questa azienda, dopo aver fatto un giro in Borgogna, avendo imparato un po' le tecniche vinicole, e traccia i primi impianti sulle colline qua di Serralunga, facendo diventare Fontana Fredda quella che noi conosciamo oggi. Cioè Mirafiore è quello che noi conosciamo oggi, quindi tutto il borgo nella sottozona di Fontana Fredda nasce in quel periodo lì. E praticamente lui aveva capito che per fare dei grandissimi vini servivano delle belle vigne, serviva una cantina, ma soprattutto servivano delle persone dedicate a quel mestiere, a quel lavoro. E quindi costruisce le case, costruisce le cascine. Pensate che trasforma il concetto di Mezzadrea, che all'epoca era quello che si utilizzava per l'agricoltura, il salariato. Il primo salariato d'Italia nasce qui a Mirafiore con Emanuele Alberto. Questa è una roba pazzesca. Poi la domenica bisognava andare a messa, era importante, gli fa la chiese, fa le scuole per i bambini, così i genitori potevano essere tranquilli, che mentre lavoravano i figli erano sempre nella tenuta a studiare. Si crea un vivaio per farsi le marze e quindi replicare il materiale genetico delle sue vigne per ripiantarle sempre, crea un qualcosa di pazzesco. A livello enologico Mirafiore ha delle tappe straordinarie. Se noi pensiamo 1887, le prime botti in cemento di Europa vengono brevettate e costruite. Qua abbiamo ancora la targa di questo svizzero che si chiamava Bolicon Borsari, Zolicon Borsari, che le ha costruite e quindi dal legno si passa al cemento per fare la fermentazione che parte dagli affinamenti del vino. Crea questi controlli di temperatura in cantina appiccando dei fuochi. Aveva già capito che la temperatura era qualcosa di necessario. Nel 1886 esporta il primo Barolo oltrooceano, abbiamo il documento, di questo concorso dei vini tenutosi a Chicago che premiava il Barolo di Mirafiore come uno dei vini più buoni di questo concorso. Crea veramente un'azienda straordinaria, ricca di storia, di premi, concorsi enologici. Ricci già la Doiador che si faceva qua nella Stigiano, che era una manifestazione, ragazzi, importantissima. Mirafiore era sempre presente, super quotato e con i mezzi comunque di una casa reale e di un conte riesce a far diventare questa azienda famosissima. Leader probabilmente per la produzione dei vini rossi in Italia e nel mondo. Pensate che vengono redatti i primi listini, noi ce li avevamo ancora, e leggi Barolo, Barolino, Barolo Extravecchio. Tutte le classificazioni di un tempo per i vini più o meno importanti. Avevano già preso la denominazione Barolo e quindi davano già anche un'idea di geografia al vino, che è una roba pazzesca, no? Da quale poi nascono le DOC, le due CGI e nasce tutta la storia che ci sta dietro. Emanuele Alberto era un giro, pensate, che crea la prima forma di Kral, che era il circolo ricreativo del dopolavoro. Vuol dire che tutti i dipendenti alle sei, quando finivano, potevano andare in questo circolo ed erano tutti analfabeti per la maggior parte. E lui gli leggeva i libri la sera per dargli un po' di cultura, per insegnargli un po' di robe. Era quasi, aveva creato quasi anche un'associazione sindacale all'interno della sua tenuta per i dipendenti. I dipendenti potevano dire la loro. Era anche audibile. Aveva questi vigneti qui a Serralunga, nella zona di Alba, la Bernardina, quella dove oggi c'è un produttore famosissimo e molto bravo che si chiama Ceretto. Aveva una parte di vigneti alla Morra e una parte di vigneti a Barolo. Oggi noi riusciamo ancora a contare quelli di Barolo e quelli di Serralunga e da lì oggi produciamo i nostri vini. Cosa succede però? Lui muore molto giovane, ha 46 anni, pare di cirrosi epatica, probabilmente gli piaceva bere, oltre che produrre il vino. E da lì arriva il figlio, Gastone Mirafiore, che poi ha fatto fare bancarotta alla tenuta a causa crisi del 29, a causa Villossera, che è stato un male incredibile. A quel punto la tenuta viene venduta a Monte dei Paschi di Siena, mentre il marchio viene venduto alla famiglia Gancia, che aveva un sogno nel cassetto, che era quello di incominciare la produzione di vini fermi e soprattutto di vini rossi, Barolo, Barbaresco, che già si producevano qui da Mirafiore. Incominciano a produrre a questo marchio, Gancia, famosa azienda spumantistica, con spumanti molto buoni, sull'Altalanga addirittura secondo me straordinari, incomincia a produrre dei vini rossi, ma purtroppo, dopo un po' di anni, decide di abbandonare il progetto e mette nel cassetto per 70 anni questo marchio. Nel 2008 noi diventiamo proprietari della tenuta di Fontana Fredda, dell'azienda Fontana Fredda, leggendo la storia, capiamo il valore e l'importanza di questo marchio. E con il grande rapporto che abbiamo da sempre con la famiglia Gancia siamo riusciti a riportarlo a casa, a fare quest'unione. E lì avevamo due scelte. La scelta numero uno era quella di farla diventare, in una parola tremenda, la linea alta di Fontana Fredda. Ma questo voleva dire che Fontana Fredda faceva vini bassi. E che secondo noi non è così, e ci siamo concentrati e lavorati tanto negli anni per farli sempre più buoni. Abbiamo deciso allora di fare un'azienda vera e propria che nasce nel borgo di Fontana Fredda, come fosse un villaggio, come fosse un piccolo paesino, nel quale ci sono due anime, due aziende separate, distinte. E nasce così Casa Emanuele Alberto di Mirafiore. Oggi proprio un'azienda separata, sia di vigneti, sia di persone che ci lavorano all'interno, di ragazzi, tutto diviso, insieme hanno solo più la commercializzazione del vino e quindi fa sinergia e rete. Su Mirafiore abbiamo fatto tanto, tanto perché deve diventare quell'azienda che racconta i saperi popolari, che racconta quella langa, che non dobbiamo dimenticarci, perché se no tra una o due generazioni nessuno si ricorda da dove arriviamo, dalla Malora, la Malora che raccontava Fenoglio, da una zona più alta dell'Altalanga, dove ne hanno viste di tutti i colori. E allora abbiamo voluto cercare di arricchire questa nuova azienda, nata appunto, poi, rinata nel 2008, di valori aggiunti. Cercando di arrivare fino addirittura a parlare di magismo, con questa vigna magica, che magari dopo vi racconterò, a cercare di fare solo vini puliti. Quindi dall'anno scorso siamo 100% certificati bio e oggi facciamo solo vini biologici. È una produzione molto ridotta, parliamo di 150-1000 bottiglie, che è, possiamo dire, la dimensione media, medio-grande di un produttore storico della langa, oggi. E facciamo soltanto i vini tipici del nostro territorio. Quindi la bollicina, perché abbiamo una tradizione spumantistica che risale all'850, e quindi è storia e facciamo il nostro altalanga, facciamo solo uno, 100% pieno nero, facciamo il dolcetto, la barbera, il nebiolo e poi quattro baroli differenti. Ecco, Andrea, concentriamoci sui vigneti, che comunque a tutti gli effetti sono supposizioni di estrema vocazionalità, nel senso che vi trovate comunque su vigne di grande valore, da Lazzarito, a Paia Gallo, agli stessi vigneti che comunque sovrastano il borgo di Fontana Predio. Ecco, concentriamoci un attimo sul discorso dei vigneti, poi so che con Alberto Grasso, il vostro agronomo di gruppo, avete lavorato molto su, l'hai già preannunciato, su questa svolta biologica di certificazione, se avete anche qualche nuova idea o comunque qualche sperimentazione in atto, visto che è un po' l'azienda dove osate forse di più dal punto di vista anche agricolo e anche come stile, ma magari sullo stile ne parliamo a modo. Sì, guarda, abbiamo, allora, vigneti tra le posizioni più vocate per la produzione di Barolo e con quelle, perché quelle abbiamo, facciamo anche il nostro Langenebbiolo e il nostro Pietramagica, quindi sono uve che potrebbero tranquillamente essere utilizzate per fare Nebbiolo da Barolo e noi le declassiamo per fare grandi vini anche sui vini più popolari, no? Più pop. Abbiamo Lazzarito che quindi siamo veramente a ridosso del comune di Serralunga fatto da una terra veramente magnifica, una delle parti più antiche, un terreno che può risalire quasi fino a 13 milioni di anni fa quando si è emerso, quando è emerso dal mare, lì abbiamo una concentrazione di marna blu e di calcare incredibili e da lì riusciamo ad ottenere dei vini quelli che si possono, che una volta si definivano austeri, no? Quindi di grande potenza, ma la potenza non dobbiamo immaginarcela come spessore, come dimensione, perché in realtà poi i vini sono molto fini e molto dritti e quindi quasi dei vini che ti fanno vibrare un po' la spina dorsale quando si assaggiano. Invece su Barolo terreno leggermente diverso, sembra un misto di marna, di calcare con percentuali di sabbia un po' più alte e quindi lì abbiamo delle sensazioni diverse e Paiagallo è quasi la continuazione naturale di Cannubi. Poi ci si è stata fatta una rotonda in mezzo a una strada e si è tagliata la collina, ma la derivazione è la stessa e quella è considerata proprio la spina dorsale della Langa perché divide in due le due grandi aree geologiche che noi abbiamo e lì si riesce veramente ad avere un vino diverso. Diverso significa che è difficilmente paragonabile, difficilmente dettato da uno stile e unico e forse è per questo che quella parte lì e poi negli anni è diventata così famosa, così popolare. E poi sull'agricoltura sull'agricoltura facciamo bio come abbiamo detto ma ormai da tre anni stiamo sperimentando su alcuni nostri vigneti io lo chiamo una sorta di biodinamico nostro che vuol dire senza magia ma con un po' più di ragionamento dietro di scienza il che vuol dire che ci siamo concentrati su cercare di eliminare le ultime due molecole di origine chimica che sono il rame e lo zolfo chimica naturale perché vengono estratti da miniere non è che sono state inventate da sintesi che però comunque sono un qualcosa che in natura in quelle percentuali in questi luoghi non c'è e che quindi comunque un po' nei terreni rimangono sono metalli di solito pesanti e quindi impossibili da digerire da parte del terreno e allora abbiamo provato da tre anni ormai con l'aiuto di un grandissimo toscano che si chiama Ruggero Mazzilli a cercare di andare verso questi prodotti che si chiamano induttori di resistenza solitamente di origine 100% naturale possono essere scorze d'arancia oppure aighe marine sono dei trattamenti ricchissimi di enzimi questo enzima che effettua che quando va a contatto con la pianta stimola la pianta ad andare in autodifesa cioè gli enzimi della pianta a difendersi questo è è stato successo per noi perché comunque dove l'abbiamo provato per tre anni di fila non abbiamo avuto malattie solo grandine ma su quella non potevamo farci niente non abbiamo avuto malattie però abbiamo avuto un calo del 40% della produzione perché comunque la pianta nello sforzarsi a non prendere malattie che vuol dire mettersi la sciarva mettersi il cappello e proteggersi in questo senso ha dovuto lasciare un po' meno energia per la produzione di grappoli quindi questo è l'effetto che stiamo notando però è un successo cioè pensare di non utilizzare veramente più niente e comunque riuscire a produrre a produrre una qualità giusta se poi la gente riconoscerà anche lo sforzo questo diventerà veramente a 360 gradi un qualcosa di sostenibile anche poi a livello economico che comunque è sempre anche importante da un certo punto di vista riuscire a ripagare tutti questi lavori questi sforzi che si stanno facendo quindi questa è la rivoluzione che stiamo provando è un qualcosa che però ce la teniamo per noi e la proveremo fino a quando non avremo la certezza che stiamo facendo un qualcosa di giusto anche un po' il profilo aromatico del vino cambia e questa è un qualcosa di bello si trovano molto più sentori di incenso di paglia un po' diversi con qualche nota anche di frutta un po' strana poi magari quando avremo tempo potrai di nuovo tornare a trovarci li assaggeremo insieme perché sono abbastanza divertenti grazie passiamo invece allo stile dei vini di casa Mirafiore perché io l'ho sempre trovata quando ho avuto modo di degustarlo ormai sono diversi anni che assaggiamo fin dall'inizio della guida che assaggiamo i vini di questa azienda e ai tempi mi ricordo tu sei molto più giovane di me quindi sei un ragazzino però assaggiavo con il vostro ex enologo Danilo Drocco e poi con te dopo e poi anche con Giorgio Lavagna che comunque è entrato nella squadra a pieno titolo negli ultimi anni ecco uno stile comunque estremamente classico se vogliamo questa diatriba un po' ormai vetusta e forse anche un po' inutile ormai da tirar fuori però per far capire a chi ci ascolterà comunque è uno stile estremamente tradizionale con un naso che alcune volte vira addirittura su alcune etichette verso l'acciuga questi sentori salmastri che in fondo a me piacciono molto quindi anche dal punto di vista e lo stile ho sempre trovato una scelta molto precisa molto che connota moltissimo il vostro nebbiolo con appunto uno stile devo dire estremo ma un estremo che mi trova mi trova convinto perché sono vini che mi piacciono come è che arrivate qual è l'idea dello stile che volete dare a questa azienda guarda è un qualcosa che del quale posso dire che ci ho messo un po' di testa anch'io quando ero molto giovane avevo appena finito la scuola onologica e ho trovato Danilo che è una persona estremamente capace intelligente che mi ha appoggiato quindi una bella botta di fortuna e insieme abbiamo tirato fuori un rifare qualcosa che si faceva già ma cercando di capirlo quindi io mi sono innamorato a scuola grazie al mio professore Arnulfo di viticoltura ed enologia del cemento e avevo fatto questa prova sperimentazione alla scuola logica si poteva era bellissimo si studiava poco si lavorava tanto si faceva questa questa avevamo la cantina sperimentale dove si sperimentava io avevo fatto questa vinificazione in sesta in cemento di nebbiolo e mi era piaciuto da morire e quindi nel 2012 con Danilo abbiamo deciso di provare ad introdurre il cemento fatto da un'azienda italiana che è la Nicovelo l'ultima rimasta in piedi dall'arrivo dell'acciaio inox perché l'acciaio ha fatto fallire una quantità di aziende produttrici di cemento nella storia io non ho guardato un po' sono andato alle varie fiere di settore sia la Francia che l'Italia eccetera e la diatriba era resinata o no poi il non resinato ci metteva tanta paura perché comunque bisognava fare un trattamento di tartarico ogni volta prima di utilizzarlo altrimenti poteva avere delle cessioni degli scambi di acidità ti distruggeva i vini quindi avevamo paura abbiamo deciso di vetro resinarla però abbiamo fatta a forma di piramide tronco piramidali e questo è bellissimo perché quando tu vai in in produzione quindi vai in fermentazione con i tuoi vini in automatico le bucce stanno molto più a contatto con il vino e fa già quasi una macerazione a cappello sommerso durante la fermentazione quindi non devi poi esagerare nelle post fermentative lasciandolo ancora lì lasciandolo proprio a contatto con le bucce in questo cemento a temperatura fissa lui rimane poi da solo intorno ai 25 26 non cambia mai la cosa bella è che col cemento noi riusciamo ad avere una linearità di fermentazione proprio con i grafici che si facevano una volta dove la temperatura fa così e lo zucchero fa così e si incrociano alla perfezione questo ci permette di non andare a produrre nessuna puzza e di avere dei vini estremamente estremamente eleganti però finite le fermentazioni decidiamo di metterli con un po' di feccia nobile di feccia buona in affinamento quindi non estremamente puliti e da lì c'è un processo dove le scorze di lievito morte che sono la feccia a contatto con il vino danno complessità e arricchiscono un po' il tuo vino e da lì si formano queste leggere riduzioni di timbro veramente classico e questo si fa solitamente in botte grande un rovere di slavonia non tostata e quindi per cercare di mantenere quanto più possibile l'originalità del profumo dell'uva e da lì andiamo magari anche alla ricerca di queste puzzettine che ci piacciono tu dicevi l'acciughina sul nebbiolo giustamente io ti posso dire la buccia di salame sulla barbera che c'è anche un po' quella e questo comunque ti dà un timbro pazzesco riconoscibile soprattutto anche nelle degustazioni della cieca ed è veramente divertente e comunque sono quelle riduzioni che poi alla fine evitano delle ossidazioni rapidi dei vini e ti permettono di avere dei vini che durano per tantissimo tempo oggi noi ci dilettiamo ad aprire il primo dolcetto che avevamo fatto che era il 2009 e ti abbiamo un dolcetto del 2009 e stai da dio è un vino bellissimo quindi ricerchiamo quella ricerchiamo la complessità del nostro territorio e la capacità di durare nel tempo bene Andrea hai condensato anche questa volta oltre a averlo fatto poi per chi vorrà vedere il video di Fontana Fredda con estrema capacità e rapidità una storia molto lunga ti ringrazio molto e a questo punto alla prossima se mi permetti l'ultima velocissima perché dopo tutto questo che ti ho raccontato che abbiamo fatto abbiamo deciso di approcciare il magismo e ci hanno guardato già un po' tutti male ma vuole essere un qualcosa di veramente diverso io ho esordito dicendo con mi Raffaele vogliamo mantenere viva la memoria della langa storica per il futuro e allora abbiamo fatto il magismo questa qua che abbiamo chiamato vigna magica è un progetto che nasce sì sono queste qua ti faccio vedere quella più più scandalosa va così sciogliamo subito il ghiaccio che è questa con questo fallo in etichetta a simbolo della fertilità ma adesso ve la spiego perché vista così può essere un vino che ha poco senso in realtà è un vino ricco di significato perché insieme a Grimaldi che tu conosci bene che è stato il rettore dell'università di scienze gastronomiche per molti anni lui è dell'Altalanga e lui è ha un culto sul nostro territorio pazzesco è grande conoscitore e abbiamo scoperto insieme un qualcosa che non si racconta più che non c'è più che era il magismo il magismo non è nient'altro che era la non cultura delle persone non la non cultura la non la non conoscenza della scienza da parte delle persone di 30 40 50 70 anni fa e quindi quando uno non ha la scienza l'unica cosa alla quale si può ancora appoggiare è la preghiera e quindi il magismo ci sono un sacco di scritti di fenoglio sulle masche quindi dei fantasmi che venivano scacciati con dei riti magici con i canti con i balli prima della vendemia abbiamo scoperto che in Altalanga a Vesime qualche anno fa sono state ritrovate due pietre antropomorfe queste pietre antropomorfe che erano a forma di donna incinta a forma di essere umano intanto perché riprendevano quello che era il dio e poi a forma o incinta a forma di fallo l'uomo con la barba ognuna di queste aveva un significato il fallo era la fertilità la donna incinta era la protezione della madre quindi di madre natura l'uomo con la barba era l'antico saggio e queste pietre erano piantate come fossero i pali dei filari tutto intorno ai vigneti sulle punte più alte delle ranghe questo serviva sia come protezione una sorta di stone age della langa di protezione dei mali che potevano attaccare la vigna quindi la non fertilità la grandine il brutto tempo e questi contadini che pregavano queste pietre abbiamo scoperto che erano stati utilizzati anche per le guerre per spaventare le offensive che arrivavano abbiamo voluto non perdere questo sapere popolare abbiamo rivoluto fare una vigna magica con uno scalpellino sempre di vesime che ci ha rifatto delle repliche degli originali ognuna con un valore quindi ogni vino poi ispirato ad una pietra abbiamo circondato tutto il nostro vigneto che all'interno ha barbera e nebbiolo 90% di nebbiolo 95% di nebbiolo e 5% di barbera potete crederci o no intanto nel 2017 che c'è stata se lo ricordano tutti ad aprile una gelata pazzesca a noi ci ha preso quasi tutto la parte bassa questa vigna no poi puoi dirmi è sposta a sud ha degli alberi davanti è stata e non l'ha presa l'anno scorso una grandinata che noi ci ricordiamo bene perché abbiamo raccolto l'11% ed era pietra magica perché ha preso tutta la collina ma quel versante lì non l'ha colpito e sul vino abbiamo voluto fare che cosa ritirare fuori un'altra parte di memoria della langa ovvero il primi barolo come si facevano i primi barolo intanto non affinavano per 3-4 anni in botte un anno un anno e mezzo al massimo poi venivano messi in commercio ma soprattutto non erano 100% nebbiolo perché? perché all'epoca i vini scarichi di colore non piacevano al mercato non si vendevano e quindi finite le fermentazioni si faceva sempre un ripasso sulle bucce delle barbere che ti davano quel tocco di acidità quel tocco di colore e anche un po' di brio al vino per poi ritornare sulle bucce del nebbiolo e finire le fermentazioni e poi seguire tutto lo stile tradizionale che noi conosciamo dell'affinamento del barolo e quindi con l'annata 2017 che è stata la prima abbiamo voluto riportare alla luce un vino fatto in questo stile e soprattutto riportare alla luce una storicità di preghiera e di intelletto dei nostri antichi e di culto che altrimenti probabilmente sarebbe andata persa perché queste due pietre originali prima o poi passano da un garage all'altro e nessuno le ritrova più aggiungo che in tempi di covid forse il magismo potrebbe anche servire qualcuno non c'è la scienza però qualcuno mi ha detto ma guarda che queste pietre magiche che dovrebbero proteggerti da quando le hai messe grandinata è arrivata la gelata adesso il covid forse conviene che le togli beh però siete sopravvissuti siete sopravvissuti dai un saluto ciao Andrea grazie mille ciao a tutti